salve salve e benvenuti e benvenute a questo appuntamento di aggiornamento normativo riguarda una legge una legge molto parziale molto puntuale ma comunque importante perché dopo qualche tempo va a modificare in modo strutturale non soltanto in relazione al periodo emergenziale il testo unico degli enti locali quindi una legge utile per chi opera vedremo che riguarda una parte significativa delle amministrazioni comunali e anche per chi si prepara ovviamente ai concorsi perché è un super jolly come lo chiamo io quelle cose che a volte neanche la commissione conosce andiamo a vedere allora di cosa si tratta intanto è la legge 12 aprile 2022 numero 35 avente ad oggetto modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 in materia di limitazione del mandato dei sindaci quindi il cosiddetto terzo mandato e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni secondo elemento terzo elemento nonché al decreto legislativo 39 2013 sulle incompatibilità e le inconferibilità quarto appunto sul su queste problematiche relative al gazzetto ufficiale 29 aprile 2022 entrata in vigore 14 maggio 2022 intanto mi chiedono in diretta è stato modificato anche il codice degli appalti non qui lo vedremo in un'altra disposizione che è uscita nella gazzetta ufficiale del 30 di aprile che avevo già commentato il decreto legge numero 36 del 2022 ma in questo caso le modifiche riguardano soltanto queste disposizioni il 267 del 2000 e il 39 del 2013 ricordo il 39 del 2013 è uno dei decreti attuativi della cosiddetta riforma severino in materia di anticorruzione andiamo a vedere allora che cosa prevede allora una nota stilistica la parte in rosso a destra l'ho inserita io quindi il testo normativo e quella a sinistra a destra per inserirvi le norme aggiornate la camera dei deputati il senato della repubblica hanno approvato il presidente della repubblica promulga la seguente legge articolo 1 inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico all'articolo 3 comma 1 lettera del decreto legislativo 39 2013 dopo la parola locali sono aggiunte le seguenti nonché degli enti di diritto privato in controllo pubblico leggiamo nel riquadro rosso come viene la norma l'articolo 3 inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione comma 1 a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti a gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali regionali e locali qui finiva la norma fino ad oggi dal 14 maggio la norma prosegue nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico quindi un'espansione dei limiti di inconferibilità di incarico previsti fino ad oggi quindi una norma se vogliamo limitativa delle possibilità di chi si vuole candidare a ottenere incarichi amministrativi seconda secondo articolo semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione inferiore fino a 5.000 abitanti scusate ogni tanto guardo la diretta quindi seguo due cose all'articolo 196 comma 1 del Tuel dopo le parole gli enti locali sempre li vanno a mettere dopo le parole locali sono inserite le seguenti parole ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti lo ripeto sempre in tutte le mie dirette i comuni fino a 5.000 abitanti sono il 70 per cento dei comuni italiani forse l'80 per cento sono tantissimi sono 5.000 comuni quindi riguarda la maggior parte piccoli o medio piccoli ma la maggior parte dei comuni italiani vediamo la norma cosa dice allora dopo la modifica al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche l'imparzialità il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa gli enti locali ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo dai propri statuti e regolamenti di contabilità ergo questa norma ha tolto la maggior parte dei comuni i comuni medio piccoli dall'obbligo del controllo di gestione attenzione con le modalità stabilite dal testo unico degli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo a questo punto ci si può sorgere il dubbio ma sotto i 5.000 abitanti non si applica proprio il controllo di gestione o lo si deve comunque applicare ma con modalità anche diverse essendo il controllo di gestione il principio del controllo di gestione un principio fondamentale della programmazione degli enti locali beh io sarei più orientata a questa seconda ipotesi nel suggerire comunque dei meccanismi ancor che snelli la rubrica dell'articolo 2 è attenzione semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non esclusione del controllo di gestione per i comuni sotto i 5.000 abitanti quindi la norma per come formulata sia nella rubrica sia nel testo che ne deriva sembra orientata a mantenere un qua una qualche forma di controllo di gestione sebbene più snello più semplice molto semplificato e rimessa all'autonomia degli enti locali alla luce di questa disposizione articolo 3 quella più famosa quella che poi finisce sui giornali quella più nota eccetera eccetera ma in realtà non centrale diciamo in questo che riguarda poche persone poche numericamente forse una cinquantina centinaia duecento non lo so persone all'articolo 51 del testo unico degli enti locali sono apportate le seguenti motivazioni modificazioni la parola rieleggibile è sostituita dalla seguente ricandidabile è aggiunto il fine seguente periodo per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato al comma 3 le parole consentito sono sostituite da per l'ipotesi di cui al comma 2 primo periodo è consentito e poi un'altra modifica che vedremo vediamo allora che cosa è cambiato al comma 2 chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato immediatamente ricandidabile alle medesime cariche perché è stata introdotta la norma perché in realtà il sindaco poteva candidarsi al terzo mandato non poteva essere rieletto ma poteva candidarsi e questo poteva generare ovviamente delle problematiche proprio per in virtù della successiva non rieleggibilità quindi una sorta di competizione falsata in questo modo si taglia la testa al toro per i sindaci dei comuni quindi non le province vedete la prima parte è relativa anche ai presidenti di provincia la seconda riguarda solo una eccezione per i sindaci per i sindaci e le sindache dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il limite previsto dal primo periodo non vale per il secondo mandato vale per il terzo quindi la possibilità di candidarsi anche per un terzo mandato dal 14 maggio questa norma è in vigore sapete che c'è una tornata elettiva proprio in questa in questa stagione estiva e quindi si va alla possibilità del terzo mandato per i comuni più piccoli sulla discussione sul terzo mandato sulla diciamo queste questioni c'è un ampio dibattito politico giuridicamente non ci sono particolari vincoli di costituzionalità o di incostituzionalità alla previsione di limiti o di possibilità di svolgere anche consecutivamente più volte un mandato sappiamo che il legislatore molto spesso quando prevede dei vincoli di elezione lo prevede per un solo secondo mandato tutti abbiamo in mente l'elezione del presidente degli stati uniti tranne caso eccezionale durante il periodo bellico della seconda guerra mondiale il presidente degli stati uniti non può essere eletto per più di una volta alla stessa carica 4 più 4 sappiamo che la nostra costituzione non parla della rielezione del capo dello stato per anni si è sostenuto la non rieleggibilità mentre siamo già al secondo mandato di rielezione del capo dello stato 7 più potenzialmente 7 per i sindaci ovviamente vale lo stesso principio è stato introdotto questo limite per evitare il formarsi di una situazione di potenziale conflitto nel senso di sedimentazione di vincoli sul territorio soprattutto nei comuni medio piccoli ok soprattutto nei comuni medio piccoli quindi questa norma va un po in contrasto con quel principio però è chiara netta e lineare al comma 3 invece le parole consentito sono istituite per l'ipotesi di cui al comma 2 primo periodo è consentito per l'ipotesi di cui al comma 2 primo periodo quello che riguarda i due mandati è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati hanno avuto una durata inferiore a due anni e sei mesi un giorno per causa diversa dalle dimensioni volontarie questa era una norma che c'era già ovviamente prima si riferiva a tutta l'ipotesi del comma 2 adesso si riferisce solo ai vincoli del secondo mandato ovviamente non vale per il terzo mandato quindi il terzo mandato rimane terzo anche se uno dei due si è durato meno di due anni sei mesi un giorno quindi al terzo mandato comunque il sindaco decade poi è una modifica della legge del rio di riforma degli enti locali che viene conseguentemente abrogata quindi una norma abbastanza semplice abbastanza lineare che contiene appunto norme in un senso e nell'altro in due sensi opposti ma chiara io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione arrivederci